L'orezza canonica, vincere con l'Ambri, vincere al tutto esaurito qua, è un'emozione incredibile. Esatto, come hai detto tu, emozione incredibile, soprattutto durante il post-season adesso, durante, comunque possiamo considerare una serie di play-off, una mini serie di play-off, una cosa incredibile appunto, penso alla partita ha parlato per sé, emozioni incredibili. Dopo le ultime tre partite sembrava quasi l'Ambri favorito su di voi, perché era arrivato più in forma, dopo essere andato sotto 4-0 su D'Ambri, sembrava quasi che fosse così, e invece il carattere, il cuore, e anche questa sera avete lottato stretti i denti. Esatto, non abbiamo mai mollato, abbiamo mostrato il nostro carattere, e penso che questo sia appunto una delle nostre caratteristiche più grandi di questa squadra, e penso che se continuiamo così possiamo fare un grande cammino appunto. L'ultima cosa, adesso arriva a Friburgo, si gioca un pochino più tranquillo, c'è una settimana di tempo per preparare il match. Sì, sì, esatto, abbiamo davanti tutta la settimana per preparare la serie, sarà una lunga serie, però appunto non dobbiamo mollare nemmeno un centimetro, ogni partita d'ora in poi sarà la più importante dell'anno, quindi appunto dobbiamo solo continuare così. Non mollare mai? Non mollare mai. Grazie, complimenti. Grazie a te.